Non c'è il rischio che guardando al nuovo ospedale, insomma il cuiter è in corso, si rischi di lasciare un po' questa struttura all'abbandono, pensando tanto ci sarà il prossimo, quindi è inutile continuare a investire qui, anche se le criticità comunque ci sono. Io sto impostando un discorso che siccome le attrezzature andranno nel nuovo ospedale, perché l'appalto sarà più che altro per la costruzione, di costruire un percorso che appena avremo i soldi di investire già in elettromedicali, non solo anche nell'ettica, in qualche reparto vanno sostituiti e di portare poi tutto già usato nel nuovo ospedale per quanto riguarda le attrezzature. Faccio l'esempio, in questo momento siamo andati su in ginecologia, stiamo cambiando tutti i testaletti, chiaramente quando cambia i testaletti, hai rifatto gli impianti di gas elettrici, pittoreremo le stanze, per cui continuiamo anche a investire nei reparti che sono più scadenti da tempo di questo vecchio ospedale, anche perché questo ospedale sarà un centro sanitario territoriale una volta che facciamo il nuovo ospedale fuori città, per cui questa è una struttura sanitaria che non viene a mancare alla città di Vasto, chiaramente non più ospedale ma a casa della comunità e questo chiaramente è un incentivo di non investire su questo presidio, in questo momento ancora ospedale. Per cui si continua a investire e sto cercando nelle pieghe tra PNRR e bilancio e articolo 20 di in qualche modo mettere a posto questo ospedale che non ha visto soldi per un decennio e chiaramente ha delle urgenze che vanno affrontate. Sul nuovo ospedale la tabella di marcia a che punto si trova? In questo momento il progetto nuovo ospedale a Vaglia del Ministero che finalmente si è ricostituito dal nucleo di valutazione del Ministero perché è un organo tecnico che dà una valutazione indipendente dei progetti, speriamo che passi il Vaglia e una volta approvato i fondi sono disponibili per cui noi procederemo con la progettazione esecutiva e poi la gara a palto. Grazie